Nessuna revoca di fondi PNRR dedicati all'ASL di Pescara. Dopo la conferenza stampa dei consiglieri regionali di centrosinistra che avevano parlato di un taglio da 4 milioni di euro, arriva la replica da parte dell'assessore regionale alla salute Nicoletta Veri. La dotazione finanziaria assegnata all'Abruzzo per gli interventi sulla sanità territoriale, dice Veri, è intatta e non è intervenuto alcun taglio da parte dello Stato. Il riferimento della centrosinistra, spiega ancora Veri, è al FOI, ossia il Fondo per le Opere Indifferibili del Ministero. Si tratta di un fondo che stanzia risorse aggiuntive per la realizzazione delle strutture. L'Abruzzo, spiega Veri, nel 2022 non ha potuto accedere al FOI in quanto le progettazioni non erano state ancora completate. Dunque non ci sarebbe stata revoca per via del fatto che non c'era stata ancora assegnazione. Il provvedimento per accedere alle risorse, per lo stesso importo già destinato all'Abruzzo, sarà riproposto anche per il 2023, assicura l'assessore Veri, e questa volta i fondi saranno assegnati in un contesto di immediata utilità. Nel frattempo, spiega la Regione, l'ARIC provvederà a pubblicare tutte le gare per l'affidamento delle progettazioni esecutive e delle opere inserite nella programmazione regionale per la missione 6 salute del PNRR. Non c'è dunque alcun ritardo nella gestione delle procedure PNRR, conclude l'assessore Veri, e la Regione Abruzzo sta rispettando tutte le scadenze previste nel cronoprogramma.